Sapevi che puoi mangiare questo panino gigantesco totalmente gratis? Devi solamente riuscire a finirlo Sono sicuro che non ci riuscirai Però comunque tranquillo, perché? Anche se non riesci a finirlo il prezzo è assurdo E tra poco te lo dico Lo so, è difficile da credere Perché è un panino gigantesco Pistacchioso all'ennesima potenza Sì, hamburger, 4 burrate e non ti preoccupare, l'ambulanza è gratis Ora ti dico quanto costa Però prima tagga un amico che te lo deve offrire Sono a Catania, la baita di Rosemary E il panino enorme costa solo questo prezzo